In comune nuvole sempre più nere. Anche il gruppo Insieme per l'Aquila scarica l'ormai ex assessore Sabrina Di Cosimo, dicendo di comprendere le ragioni del sindaco. Ad incontrare la rappresentanza dell'intero gruppo consigliare è stato il consigliere comunale, il capogruppo d'Insieme per l'Aquila, Roberto Silberi. Il sindaco mi ha illustrato le ragioni della decisione, ha raccontato Silberi e le modalità con cui è stata attuata. Preso atto delle ragioni del sindaco e delle non concordate esternazioni dell'ex assessore, il gruppo consigliare Insieme per l'Aquila prende atto e accetta il provvedimento adottato dal primo cittadino, nei confronti del quale si ribadisce la massima fiducia. Anche alla luce di quanto riportato da alcuni organi di stampa, precisa Silberi che il gruppo Insieme per l'Aquila si farà carico di portare avanti e concretizzare il lavoro di Sabrina Di Cosimo sul carnevale in città, che si svolgerà regolarmente. L'ex assessore, proprio sul suo profilo Facebook e anche in alcune interviste rilasciate, aveva detto di stare a lavorare sul carnevale aquilano quando è stata raggiunta dalla decisione del sindaco e aveva detto dunque non si farà. Ed ecco ora la risposta di Silberi che invece tuona, il carnevale si farà. È certo che questa è un'altra puntata che va ad arricchire ormai una telenovela a cui però i cittadini aquilani, almeno così si legge nei social, sono stanchi di assistere.